Un vasto traffico di droga gestito in famiglia da tre fratelli e dalle mogli di due di loro è stato scoperto sull'asse Sicilia-Calabria dai carabinieri del comando provinciale di Catania. In tutto sono 16 le persone ritenute inserite in un'organizzazione criminale che opera nel comprensorio di Randazzo. Sono state arrestate nel corso del blitz che ha visto all'opera una settantina di militari dell'arma, accusate a vario titolo di aver acquistato cocaina e marijuana nella Locride. La droga sarebbe stata poi venduta nel mercato di Randazzo, a 40 km da Catania e nei paesini della zona settentrionale dell'Etna.